Centrocampista alto rispetto al giapponese, intanto qui rivediamo una occasione del primo tempo e quando si è arrabbiato Pago per quella manata di Tiago Motta sono un po' di azioni della gara, abbiamo visto il gol, l'intervento al centrocampo deciso di Ibra sempre nel primo tempo, poi invece questa rispinta di Giulio Cesar